buongiorno a tutti oggi siamo a ligornetto per presentarvi questo 5 locali duplex siamo al primo piano di questa casa entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo disimpegno subito a sinistra possiamo notare un armadio a muro già installato mentre sul lato destro il bagno o bagno di servizio composto di specchiera lavabo vc e potete notare che abbiamo gli attacchi per lavatrice e asciugatrici procediamo sulla destra abbiamo questa scala che ci porterà al piano superiore dove troveremo tutta la zona notte mentre proseguendo abbiamo la prima area del soggiorno un'area come potete vedere ben illuminata grazie a queste finestre caratterizzata da questo cammino veramente bello proseguiamo la nostra visita da questa parte abbiamo una seconda area dedicata al soggiorno mentre attraverso questa porta possiamo accedere alla cucina una cucina ben fornita di tutti gli elettrodomestici come potete notare e vediamo subito il forno lavastoviglie lavabo piano cottura in vetro ceramica frigorifero e congelatore ritorniamo verso l'ingresso per prendere la scala e andare a visionare la zona notte arrivati nella zona notte abbiamo questo piccolo corridoio all'interno del quale troviamo un armadio a muro già installato subito frontalmente il bagno composto da doppio lavabo una specchiera ampia una comoda vasca vc e bdv continuiamo entriamo nella camera matrimoniale proseguiamo in cima alle scale sulla destra troviamo questa seconda stanza e concludiamo la visita in questa terza e ultima stanza se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto